permesso? disturbo? no no, buongiorno volevo chiedere se ha l'ultimo libro di Masotti e Paul Lidis ci tornassi a Cincenissa? si quello li, ma cos'è in dialetto? no no, Cincenissa è una località del Messico allora lei l'ha già letto? si, lo tengo vicino al letto il comodino? no no, l'ho messo nella presa elettrica perché fa una luce che di notte non dà fastidio ma com'è? è abbastanza bello me lo può prestare? allora me lo può mettere sul cd si? quanti gliene faccio? 75 quant'è? vuole un po' di lardo di patta negra? no, grazie sono sottopeso, grazie, arrivederci un saluto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti